questi sono dei coltelli scheletrati sempre che si trovano alla coltelleria scintilla di treviso sono lasciati al nero di tempra l'acciaio è lo sverker 21 di 2 che tempo io personalmente sono come si può vedere molto leggeri e adatti all'uso diciamo tipo caccia i fodri sono particolari perché io faccio un trattamento particolare a base di cera che li rende molto più resistenti agli agenti atmosferici e eventualmente al taglio e alle abrasioni